5 mesi di sale è una figata questo non è caldo no, su questo modello qua no non si scalda perché è isolato invece sull'altro si gucci, guarda come sono l'ultima gucci, attenzione che c'hai la tua macchina si, adesso abbiamo una botticina tira, tira è bello questo punto che ho preso oh certo molto meno più forte ma io sono proprio forte no, vai con il tubo lì là come il tubo, hai visto? si, come? beh, cosa puoi appoggiare anche lì? adesso si comprato anche il trucco per portare l'ultimo l'ho mai visto, che bello bucci buone è carino, è della Mercedes quel coso lì, eh sì mi dice, ma era giusto appoggiarsi anche qua ma c'è questa pezzone che ti è terminata andiamo in posti che non c'è tanta niente no, ma appoggiarti la cosa qua dove devo appoggiarmi, bucci? ah, la gottura no, ma qua, ma qua, su qua guarda che vista panoramica guarda, guarda il poso di Fabio la carrozzeria guarda gli uni voti dall'alto come mi sembra questa è la terza non posso andare oltre la terza ma qui la quarta è bloccata ancora? no, si vede bene è come se vedessi come quello l'altro bello un po' di... ecco la serie 200 no, effettivamente ha una bella visura visuale guarda i cavalli guarda i vedi bene la pantinina non c'è guarda che passi dalla macchina ibrida che hai tu e non l'inclina a questo no, non l'inclina no, non l'inclina oh, non c'è ma ci sei contento? no, no eh eh poi quando avrò anche la quarta marcia sono anche più contento e non le bisogna andare appena 60 volte ma perché adesso perché è bloccata? perché la macchina operatrice non deve andare oltre i 40 ore allora ti bloccano una marcia dalla mona guarda è uscito anche il sole qui c'è comunque i vignetti di stamattina della valtellina sono veramente molto vecchi no, non sono belli sono belli sì io volevo quel vino lì il freno il freno frena dopo due ore cioè guarda che sterzo che abbia girato su noi stessi ha più sterzo della mia hai capito che roba? che pazzesco la mia non riusciva a girare a rigirare su se stessa la seconda terza poi la mezzo cambia in questo affare qui allora io sto andando in terzo ok? tiro giù look non cambia niente ok? quanto premo la frizione cambia da automatico mette la seconda in mezzo e senti che che tira di più potore scende di mezza marcia poi predispongo e passaggio in terza ma qui c'è questo posso guidarlo anch'io? sì no? questa che è patente no, è macchina operatrice la puoi guidare anche ah, posso guidarlo anch'io? sì, sì posso guidarlo dopo? se te la senti? devi chiedere permesso a Fabio però perché ricordate che anche è anche suo il pezzo quindi deve dare lui il parere io mi sto avvicinando qua vedi che se puoi salire devo scalare io tiro giù questo frizione tu ha già scalato di mezza marcia senti che ha il motore sono in seconda e mezza adesso seconda e mezza ah, vedi via Piemonte che diceva Fabio sì, sento e tira giù tira giù tacca frizione lascio e siamo in seconda e mezza così mi avvicino alla rotonda per frenare poi giro già sulla predispondo sono in seconda e mezza vedo che non c'è nessuno e prendi velocità Puccia e siamo in terza e vedo come se fosse un'automazione ma sì se non mi fa sempre mezza e mezza e mi ritieni Puccia sei contento eh eh e se non è successo Pucci salto è tanto ammortizzato senti sì sì non c'è proprio qua mi ha detto che dovevo aspettare il gas non c'è Fabio eh non c'è Fabio se lo chiamano la polizia ma è che di te hanno un'automazione guarda che bella sì ce ne sono di potenza ce ne sono anche una di molto bella predisponi Puccia predisponi Puccia e il nostro primo giretto utile un po' da fuori oggi è il primo di aprile un pesce d'aprile questo Puccia guarda c'è tutta una bella passeggiata guarda Puccia ma che noi non facciamo le passeggiate siamo su ma che non siamo bene ma le signore sono più tranquille e l'ho visto perché sei lì che riesci a farlo ritrovare erano tutte lì che ti guardavano facciola senti che fa Puff 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 queste due invece in mente vanno più veloce di noi diciamo però noi siamo Puccia Puccia Puff 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 and Puff É scendente add moment il Puff pote è discesa è più facile che la salita il ruolo che saper saper Grazie a tutti.